DJI Air 3 leak, le immagini ufficiali mostrano drone, nuovo controller e batteria. Le prime immagini di marketing ufficiali che mostrano, tra le altre cose, il sistema a doppia fotocamera del nuovo drone. Il DJI Air 3 ha perseguitato le voci per un po' di tempo, e recentemente è diventato chiaro che DJI non sta solo pianificando un nuovo drone con questo nome, ma sta anche lanciando un nuovo controller. Dopo varie foto tra ballanti e di box, ora possiamo mostrare per la prima volta le immagini di marketing ufficiali dei due dispositivi. Sistema a doppia fotocamera come nel DJI Mavic 3, ma senza Hasselblad. Come si può vedere nelle immagini, DJI ha integrato un nuovo sistema di telecamere nell'Air 3, che ospita due sensori nel gimbal fissato nella parte anteriore. Questo adatta l'equipaggiamento del DJI Air 3 alle attuali varianti della più costosa serie Mavic 3, che hanno anche due fotocamere. Una differenza rispetto alla serie Mavic sembra essere che DJI non collabora con lo specialista svedese di fotocamere Hasselblad sull'Air 3, almeno nel caso del modello che sta ora comparendo, dal momento che il logo dell'azienda utilizzato sui modelli Mavic 3 non non appaiono qui attaccati al corpo dell'unità fotocamera. Nuova batteria più grande e nuovo controller. Inoltre, le immagini di marketing mostrano anche una nuova batteria per DJI Air 3, la cui capacità ora aumenta a 4241 MAU 62,6 Wh. Ciò dovrebbe aumentare significativamente il tempo di volo totale rispetto all'Air 2 o all'Air 2S, dopo tutto, la nuova. Secondo le informazioni in nostro possesso, il DJI Air 3 viene sempre consegnato in combinazione con un controller, in quanto non sembra esserci un pacchetto solo drone. Tuttavia, DJI sta pianificando vari bundle, quindi ci sarà anche una cosiddetta combo flimore con batterie aggiuntive e altri accessori che contiene il vecchio controller DJI RC2 e non il nuovo modello RCN2. Visivamente, il nuovo controller DJI RCN2 ricorda molto il controller DJI RC disponibile da maggio 2022, quindi ha un ampio display touch sotto gli stick di controllo. Tuttavia, non disponiamo ancora di dati tecnici sul drone stesso e sul nuovo controller. Quindi a parte le differenze ottiche, non possiamo ancora fornire alcuna informazione sulle proprietà del DJI Air 3 o del DJI RCN2. Tuttavia, le informazioni sui prezzi sono già disponibili, la filiale britannica di Amazon sta già nominando involontariamente i prezzi per almeno tre degli SKU pianificati. Il DJI Air 3 con controller RCN2 è elencato lì al prezzo di 962 sterline, 1115 euro. Il flimore combo con il vecchio controller DJI RC2 costa 1199 sterline, 1389 euro, mentre il flimore combo con il nuovo controller RCN2 costa 1379 sterline, 1597 euro. Uno DJI lancia il drone Air 3 e il controller RCN2. Due Air 3 con sistema a doppia fotocamera e batteria da 4241 ma... Tre nessuna collaborazione con Hasselblad sulla fotocamera Air 3. Quattro prezzi a partire da 962 sterline. Cinque il controller RCN2 è simile al controller DJI RC con display touch. Sei specifiche per drone e controller ancora sconosciute. Sette il tempo di volo è notevolmente aumentato grazie a una batteria più grande. Robot, alimentatore, esclusiva WinFuture. Si è uguale a non linea in caffin. Danno senza si ebiti e in dar folgenden links, a WinFuture zuunters tuzen. Uno Media Markt.